... ... ... ... ... Famigliora tranquilla? Mamma, mamma, che cosa c'ho qua? Ma la farfallina, naturalmente. E che cazzo, proprio sulla figa? Ma che era pigneto? Oh, lo sai che mi sono comprato un gommolo di segno? E che cazzo devi cancellare? ... Dal parrucchiere. Salve, buongiorno. Buongiorno. Mi farei dei capelli alla figa di gatto? Scusi, non capisco, come sarebbe? Eh, l'ultima volta? Beh, fate la cazzo di cane. Due amici. Dai, no. Ciao. Che c'ha? A me c'ha. Due amici. Ah sì, scusa. Ciao. Dai, ciao. Ciao. Ma hai baciato a me il pisello lungo, 30 centimetri? Eh, va un po' va. Come fai? Piego in due. Giorno. No, salve. Biglietto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, salve. Biglietto, grazie. Abbiamo sto biglietto. Ma scusate, questo è dell'altro ieri. Se tu vuoi vieni. Al ristorante. Camaliere? Sì, mi dica. Mi scusi, ma in questa fiesta c'è la sabbia? Eh, per 5 euro cosa voleva? Una sedia di ombrello? Da Formaio. Salve. Buongiorno. Mi dica. Quanto viene la brioche? 50 centesimi. E le briciole? Ah, le briciole niente. E le briciole 5. Due carabinieri. Oh. Ciao. Ecco, poi ho finito il puzzle che ho comprato l'altra volta. Ma dai. Quanto c'è messo? Eh, due anni. Due anni? Mi sembra un po' troppo. Che cazzo, sulla scatola ce l'ha scritto da 3 a 6. Due amici. Oh, ciao. Oh, ciao. Un cagliere che sfida, po'. Che è successo? Anche un cane mi ha pisciato sulla ruota della macchina. Ma che c'è di strana? E cazzo, è arrivato già insieme a 180. A scuola? Alessandro? Sì, mi dica, professore. Oggi parlami degli spermatozoi. Eh, la parola non mi viene. Se vuole le faccio due schizzi alla lavagna. Due funghi. Ciao. Ciao. Facciamo un amore. Dai, non fare il porcino. Oh, ciao. Sei tornato dal sabato? Minchia, ma non ti dico. Eh, dimmi, dimmi, dimmi. Che avete preso? Dimmi, dimmi, dimmi. Che avete preso? Dimmi, dimmi, dimmi. E dimmi, dimmi, dimmi. Che avete preso? Dimmi, dimmi, dimmi. Eh, dimmi, dimmi, dimmi. Eh, è stato di consegnoチャンネル. Eh, signor. Oh, Alessandro. Oh, ciao. Sei tornato da Safari. Minchia. Ora, ora. Dimmi, dimmi. Che avete preso? Eh, standato di prese. e dimmi, dimmi, dimmi... 4 zebbre e poi? Un rinoceronte bianco 8 struzzi, 6 giraffe e un coccodrillo e poi 18 ross bari non ho capito 18 no sbari non ho capito i no sbari che so sti no sbari? che cazzo ne so uscivano dai cestuti i no sbari, i no sbari